Ciao ragazzi sono Master Wallace, carico, carico, carico. Dicono che questa posizione assomiglia a Kenshiro. E' vero, effettivamente anche lui aveva un bel collone. Allora ragazzi oggi vi parlerò di un argomento interessante di cui hanno già trattato ultimamente il dottor Rosso, anche Simo Pagno, ho visto ieri. Vi dirò la mia su questa storia della rabbia d'asteroidi, su quello che può succedere, chi usa e abusa di questi farmaci. Vi dirò la mia, anche sulla base dell'esperienza che ho avuto con il mio lavoro, perché ho visto che con l'abuso di certe sostanze possono avvenire queste cose, perché ci sono delle similitudini, sia con l'uso di steroidi, sia con l'uso di alcol, di droghe. E quindi dirò la mia sotto questo aspetto, dato che me ne hanno chiesto, poi valutate voi naturalmente, ognuno si farà la sua opinione, ok? Però prima vorrei raccontare questo episodio, siccome lo dovevo dire ieri nelle risposte, poi diciamo mi ha anche sfuggito, ma non perché non l'abbia mai raccontato, ma lo voglio fare di nuovo in modo anche un po' più dettagliato, così almeno una volta per tutte lo chiariamo bene. No, è il famoso episodio del mio incidente che ebbi con la volante che... dunque questo incidente capitò nell'81, io ero in polizia da un anno ed ero già in volante, perché io ho sempre fatto la volante da inizio carriera a fine carriera, credo essere un caso unico in Italia, così mi hanno detto, non lo so. Tra l'altro in quell'anno lì mia moglie era incinta di mio primo figlio Alex, quindi questa è la situazione. E mio figlio ha anche rischiato di nascere orfano, perché se in quell'incidente ci lasciavo la pelle, sarebbe nato orfano. Vedete come il destino può cambiare in un attimo tutto? Se mio figlio fosse stato orfano, tutto questo non ci sarebbe, a parte Masterman, nemmeno avrebbe il fratello, nemmeno avrebbe questi nipoti, sarebbe cambiato tutto. È un attimo, in una vita può cambiare tutto. Questo per dirvi veramente come siamo dentro il fiume degli eventi che ci scorre contro, no? Il famoso esempio del buddismo. Allora, adesso non sto a dire chiaramente tutta la dinamica, eravamo su un intervento, quindi chiaramente era quasi mezzanotte, tra l'altro era capodanno, per cui io speravo anche di riuscire a smontare in orario per andare a fare il capodanno con la mia famiglia che mi aspettavano, c'era mia moglie incinta con le mie sorelle, i miei parenti, e mi aspettavano. Poi sapevano anche che con il mio lavoro potevo anche tardare o non andare, ok? Comunque allora è successo appunto che proprio verso la mezzanotte, poco prima, eravamo in intervento lungo il litorale e purtroppo era una serata molto fredda, le strade erano ghiacciate, c'era ghiaccio, ero io la guida della macchina e purtroppo è successo che siamo sbandati durante, mentre stavamo andando, in un lungo tratto che costeggiava la pineta di marina di Ravenna, siamo sbandati, la macchina praticamente si è intraversata, io mi ricordo, il ricordo che ho, il ricordo che ho prima del buio, del trauma commotivo che si spegne la luce, è stato questo, quando la macchina si è intraversata, ho detto al mio collega tieniti stretto, tieniti forte, una cosa del genere e poi il buio assoluto, perché dovete sapere che quando c'è un trauma commotivo il cervello si spegne, è come quando un pugile riceve un pugno e il cervello viene sballottato, si spegne immediatamente, mi sono spento. Che cosa è successo? La macchina è finita in mezzo alla pineta, ci siamo ribaltati, insomma fatto sta che io non so come, ma sono stato proiettato fuori dal parabrezza della macchina, non avevamo le cinture, all'epoca tra l'altro non c'era neanche questa cosa, ma forse con le cinture sarei morto, lo dico subito, e quindi sono stato sbalzato fuori dal parabrezza, ho buttato fuori, il mio collega è stato buttato fuori da un'altra parte, dallo sportello, una cosa pazzesca, siamo stati fortunatissimi, perché la macchina poi si è letteralmente cartocciata, schiacciata, e io quello che ricordo è che a un certo punto mi sono, ho aperto gli occhi ed ero lì, ed ero in questo prato della pineta, ero lì sdraiato, vi dico una cosa, una sensazione stranissima, in realtà la coscienza è venuta su piano piano, cioè a un certo punto ero cosciente ed ero sveglio, ma non mi rendevo conto bene di che cosa era successo e dove ero, però mi sentivo in uno stato di estremo rilassamento, ero proprio rilassato in questa situazione di rilassamento, poi lentamente la coscienza si è sempre fatta più, come dire, sempre più attiva, e ho cominciato a realizzare la situazione, tra l'altro istintivamente ho provato a muovermi e ho sentito un croc, perché avevo l'omero rotto, a quel punto mi sono reso conto che ero lì sdraiato nel prato con delle lesioni ed ero lì, non so quanto tempo sono rimasto lì, tra l'altro poi i soccorsi chiaramente poi sono anche arrivati, perché degli automobilisti hanno visto l'incidente, però non sono arrivati subito, perché per venire sul litorale partendo da Ravenna ci vuole un po' di tempo, quindi non so quanto tempo sono rimasto lì, dopodiché ho visto che sono arrivati i soccorsi anche di miei colleghi, che mi hanno tranquillizzato, eh stai che non ti preoccupare, adesso ci siamo noi, eccetera eccetera, e quindi il mio collega fortunatamente, e ripeto fortunatamente, non si è fatto nulla di che, se non qualche lesione lieve, questo mi conforta moltissimo, perché se fosse successa una tragedia del lui e la guida, questa cosa mi avrebbe segnato per tutta la vita, cioè se il mio collega ci avrebbe rimesso anche lui, ci avrebbe rimesso la vita e io guidavo, veramente questa cosa mi avrebbe distrutto per sempre, quindi come vedete fortunatamente. Tra l'altro questo mio collega l'ho rivisto qualche anno fa, perché dopo lui fu trasferito a Roma, non ci siamo più visti, quando poi eravamo già in pensione, sono passati qui di 36 anni, mi venne a trovare qua, perché lui diceva io dovevo venire a trovarti, Roberto, perché quella cosa lì ci ha accomunato per tutta la vita, siamo stati graziati e niente, è stato bello rivederlo, insomma, adesso anche lui in pensione, quindi questa cosa è importante. Io, appunto, dopo avvisarono poi i miei familiari, che praticamente non mi sono presentato al capodanno, loro hanno chiamato in questura, hanno detto purtroppo è stato un incidente, insomma, non vi dico poi come l'hanno presa, perché questa è la vita dei familiari dei poliziotti, poi mi vennero a trovare dopo anche in ospedale, quindi io sostanzialmente lesioni gravi, a parte questa frattura all'omero, vabbè, varie chimosi sul volto, mi hai fatto un po' di graffi qua e là, ma un trauma anche alla schiena, niente di rotto, ma è di un trauma, so che rimasi nel letto sdraiato per un sacco di tempo, quindi diciamo che poteva andare veramente a finire male e le conseguenze sono state reattivamente leggere, tra virgolette, considerando la gravità dell'incidente. Ecco, questo è quello che è successo ed è solo poi il primo di tanti episodi dove ho rischiato veramente la vita, poi ho fatto anche un conflitto a fuoco, ho avuto situazioni terribili, ho passato di tutti i colori, comunque ci tenevo a raccontare questo episodio perché mi è stato chiesto e questo è quanto. Chiudo dicendo che, nell'attimo che ho perso conoscenze e che l'ho riacquistata, non so quanto tempo sia passato, diciamo, 40 minuti, un'oretta, non lo so, ma non ha importanza perché, vedete, quando si è in assenza di coscienza, il tempo non conta. Se anche fosse passato un miliardo di anni, nel momento che io riacquistavo coscienza, per me sarebbe passato un niente. Questo è il famoso concetto della risurrezione. I morti di miliardi di milioni di anni fa, che ora sono senza coscienza, nel momento in cui verrà riattivata la loro memoria storica, sarà esattamente come se chiudete gli occhi e li riaprite. È un attimo, perché il tempo non conta quando siete senza coscienza. Questa è la grande speranza che ci accomuna, per cui tutti quelli che sono morti e che moriranno, se ci sarà questa risurrezione, con la memoria storica, però attenzione, perché se non ci fosse la memoria storica, qualsiasi risurrezione ne potete fare anche a migliaia, non cambierebbe nulla, non avrebbe alcun senso. È come se i vostri primi istanti di coscienza, di cui eravate bambini, prima di voi c'era un'eternità e nulla, voi non avete coscienza di niente, per voi la vita cominciava in quel momento. Questo è un po' il limite della reincarnazione, cioè se non c'è coscienza storica, se non c'è la memoria storica della vostra identità, potete fare anche infinite vite, che senso avrebbe questa cosa? Che senso avrebbe? Nessuno. Ecco perché l'importanza della memoria dell'individuo nella risurrezione, che questo che tra l'altro viene detto anche dai Vangeli, ma da un punto di vista poco tecnologico, diciamo, scientifico, ha un senso, ripristinare la memoria storica dell'individuo, altrimenti non avrebbe nessun senso. Comunque chiudo qua perché mi sto prolungando un po' troppo. Allora, vengo al discorso della rabbia di asteroidi. Ma ragazzi, io veramente, ho visto il video del dottor Rosso, di Simo Pagno, vabbè loro hanno detto le loro opinioni, ok, rispettabilissime, ci mancherebbe. Ma a me la questione sembra abbastanza semplice, non la vedo così complicata, e direi che è molto meno grave rispetto ad altre situazioni. Sembra strano che io parlo così, perché io da sempre combatto il doping, e sono qui per farlo. Ma questo problema, in realtà, non è poi veramente, la vera problematica non è nemmeno questa, nel senso che non è nemmeno molto frequente. E adesso mi spiego, vado un attimo nel dettaglio. Vedete, tutti noi abbiamo un substrato, sia psicologico e sia genetico, a livello proprio di neurotrasmettitori. Abbiamo un substrato che non è uguale per tutti. e può accadere che con l'uso di certe sostanze, che possono essere sicuramente anche gli androgeni, usati in dosi eccessive, ma questo vale anche per l'alcol, vale anche per le droghe, soprattutto quelle leggere, di cui ve ne parlerò dopo, il grande rischio delle droghe leggere nei giovani. E a seconda del substrato che abbiamo, gli effetti sono diversi, e possono essere molto amplificati. Allora, ad esempio, venendo proprio da rabbia d'asteroidi, sicuramente un eccesso di androgeni tende a farsi essere più iperattivi, più forse anche leggermente un po' più pronti così alla risposta, un po' più di aggressività forse ci può anche stare, ma generalmente non fino a livelli che uno magari perde l'agrestà fino a un attimo e comincia a spaccare tutto, non questo. Tra l'altro c'è da dire che su alcuni soggetti, in generale diciamo, mettiamola così, in generale livelli normali di testosterone, in realtà aiutano anche a mantenere una certa calma mentale, perché ci si sente bene. Quando i livelli sono troppo bassi, si va in depressione. Su certi individui, il testosterone addirittura, anche a livelli, diciamo, non fisiologici, può dare sensazione di comunque di calma, perché ci si sente veramente bene, un po' euforici, e si sta bene. E questo è quello che succede, generalmente. Proprio per l'effetto che ha l'eccesso di androgeni, l'organismo, la mente, vengono fortificati, è una cosa artificiale, poi si pagheranno le conseguenze, ma in quel momento ci si sente bene, molto bene. E la rabbia d'asterodi, che può succedere sicuramente, dov'è che c'è il problema? In soggetti che sono già tendenti, cioè che hanno già questa tendenza alla risposta aggressiva. Io ne ho conosciuti tantissimo in lavoro, delle persone che proprio di carattere, tendenzialmente, sono molto molto aggressivi, cioè basta un niente che rispondi male, ti possono insultare, o darti uno schiaffone, se sono fatti proprio così. Alcuni hanno anche proprio latenze psicotiche, molto pericolose, che vengono, in genere con l'alcol, in questi soggetti qui, questi diventano veramente violenti e perdono la testa. Io non sapete quanta gente abbiamo messo in cella per una notte di violenza, perché con l'alcol hanno perso veramente la testa, ma fuori dalla sborne dell'alcol, diciamo, erano persone che ragionavano e si rendevano anche conto di quello che era successo e che l'alcol aveva amplificato delle loro tendenze aggressive, che di fatto le avevano, ma con l'alcol veramente esplodono. Ecco, questo può succedere anche in individui molto tendenzialmente già collerici, individui già veramente molto aggressivi di per sé, non voglio dire sociopatici, ma insomma, veramente quegli individui ha carattere molto molto difficile, che ne ho conosciuto tantissimi. sicuramente lì un eccesso di androgeni potrebbe veramente far esplodere la situazione. Questo sì, e ci sono tanti casi che sono accaduti, anche a livello di campioni famosi, mi ricordo un caso famosissimo di un campione di colore americano che viveva con una bodybuilder, poi diventò violento, un abuso di questi steroidi, lei addirittura lo uccise, poi andò anche in carcere, fese un'intervista, mi ricordo. Sono tanti episodi che sono successi di questo genere, ma ripeto, sono soggetti che tendenzialmente sono già predisposti e che se non erano gli steroidi sarebbe stato l'alcol o forse la cocaina, anche la cocaina poi c'è in soggetti molto aggressivi di far prendere il controllo e le staffe, hai capito? Quindi, questo discorso di dire rabbia da steroidi, sì c'è, ma esiste nei soggetti predisposti, ripeto, con delle latenze o sociopatico, psicotico, comunque con caratteri tendenti proprio all'aggressivo, e in questi soggetti qui si può sfociare all'eccesso, ma generalmente parlando, generalmente parlando fra tutti gli assuntori, questa cosa è abbastanza rara e alcuni invece si sentono anche più tranquilli. semmai il problema, sapete quando viene? Viene quando c'è la sospensione di queste sostanze, perché anche depressioni latenti, che con gli steroidi, con gli androgeni, migliorano, in realtà poi con la sospensione di queste sostanze, le depressioni, hanno un rebound pazzesco, cioè in questi casi di depressione, con l'uso degli androgeni, si va in app, si tende a stare bene, euforici, ma con la sospensione c'è un down pauroso, che avviene anche con la cocaina la stessa cosa, anzi con la cocaina è molto più amplificata, perché la cocaina veramente tende a dare questi deliri di onipotenza i soggetti, specialmente nelle depressioni bipolari, steroidi, androgeni e cocaina, alla sospensione danno, oppure durante l'astinenza, danno effetti devastanti. Quindi, semmai il vero problema degli steroidi non è tanto quando li assumi e eventuali casi di rabbia che ci sono, ma molto rari, ma il problema riguarda la depressione che invece è molto più diffusa fra chi sospende l'uso, perché è proprio un effetto rebound, perché gli androgeni vi fanno anche salire i neurotrasmettitori, quelli diciamo stimolanti l'euforia tipo la serotonina, l'anonadrenalina, salgono, ma la sospensione se è rebound e scendono, ok? E poi c'è anche il caldo del testosterone stesso a livello della delasse, ipotalamo gonadi, che quando il testosterone è bassissimo la depressione c'è e nei soggetti predisposti alla depressione è gravissima. Qui magari qualcuno forse l'ha anche detto pubblicamente e il fatto stesso che ne faccia uso non farà altro che amplificare queste sue problematiche di base, ecco perché dicono che sono scelte scelerate, poi ripeto io lascio al destino le persone che vogliono quel destino lì, facciano loro. Ma ecco, questa è la situazione. Voglio dire questo comunque, in realtà poi se pensate bene a livello proprio sociale, siccome l'uso degli steroidi si è diffuso, ma è una nicchia molto piccola della popolazione che fa uso di steroidi relativamente ai così frequentatori di palestre, agonisti, poi agonisti sono pochissimi, ma la vera piaga sociale è l'uso delle droghe e dell'alcol. Queste cose qui davvero possono creare tanti tanti problemi. Ah, aggiungo una cosa, un altro effetto che pochi considerano con l'eccesso di androgeni, al di là della rabbia steroidica, ripeto, è rara, colpisce solo soggetti più disposti. Secondo me l'effetto più subdolo, ma più pericoloso fra virgolette dell'eccesso di testosterone, ma hanno già parlato in un altro video, è il fatto che aumenta la libido sessuale a livelli altissimi. Il famoso effetto F, no? E questo che ha un sacco di problemi a livelli sociali. Perché? Perché, ripeto, in una situazione del genere uno che c'ha fidanzata, moglie o figli, è molto probabile che va a rovinarsi, perché succede proprio una trasformazione anche della mente, che questa cosa del sesso e della libido è a livelli stratosferici e tantissime famiglie si sono sfasciate, relazioni, per questa cosa qua. Ne ha parlato anche un noto campione e ex campione italiano che ha detto che questa cosa mi aveva rovinato la vita, le sue parole, l'eccesso di testosterone per l'effetto F. Dicevo, l'uso delle droghe e dell'alcol. L'alcol tendenzialmente tende a dare sedazione nella maggior parte dei soggetti. Difatti, spesso viene usato per fare gli esami a scuola, per approcciare una ragazza nel locale che se no ha l'ansia. L'alcol ha un effetto sedativo, ma anche qui su alcuni soggetti può dare effetti di collera, di rabbia. Purtroppo, tra i soggetti giovani però, quello che dilaga è l'uso delle droghe leggere. L'uso delle droghe leggere che dilaga veramente. Mentre qui tanti sapientoni parlano no, ma legalizziamo, in fondo fumare le droghe leggere non fa male. Guardate che anche qua fra di noi, qui tutti questi famosi influencer che fanno i grandi capoccioni, ci sono consumatori di droghe leggere. Questo già dice tutto anche sulla loro credibilità secondo me morale. Perché chiunque si presenta qui e si rivolge a un pubblico in generale, ma soprattutto anche di giovani ed è un assuntore di droghe, secondo me questa cosa è altamente diseducativa, immorale e mi fermo qui, ma ci potrebbero essere anche altre conseguenze di cui mi fermo qua adesso. Dunque, le droghe leggere che cosa succede? Qual è il problema? Premesso che ha sodato che danno danno anche a livello polmonare a livello generale forse anche più del fumo da tabacco, ci sono danni alla salute proprio a livello cardiorespiratorio pesanti e questo già basterebbe per non incentivarne l'uso, ma anche qui c'è il problema delle latenze sociopatiche o psicotiche che uno ha. Le droghe leggere è assodato, non lo dico io, lo dicono i testi di psichiatria, lo dicono i studi di psichiatria, lo dicono, mi ricordo in tv uno dei famosi esperti, il dottor Paolo Crepe, che è psichiatra, ha trattato anche lui spesso il tossicodipendente, non è uno che parla casaccio, io stesso poi ho vissuto nelle comunità con il mio lavoro, ho visto tanti ragazzi lì che erano messi lì per abuso di droghe leggere, la situazione è questa, premesso che fanno male a prescindere proprio alla salute, anche a livello che diciamo psicologico tendono a far diventare letargici, non si ha più voglia di iniziative, tendono a spegnere il ragazzo, ma c'è questo problema delle tendenze nascoste, sociopatico, psicotiche, che le droghe leggere le fanno saltare fuori, avete capito? E' questo il problema, se un ragazzo ha delle tendenze psicotiche, latenti, che per il momento sono lì, forse non verranno mai fuori, o forse sì, ma quello che è certo è che con l'uso delle droghe queste tendenze verranno buttate fuori e amplificate e può succedere di tutto, quindi questo è un altro grande danno, ma molto più esteso, perché gli steroidi alla fine della popolazione, se guardate, l'uso è minimale, cioè cos'è, l'1%, forse nemmeno, ma l'uso delle droghe leggere fra i giovani sono statistiche del 30-40%, quindi capite come è questo un fenomeno molto più grave, allora, non perché io, cioè io sono sempre contro gli steroidi e i danni che sono qui a parlarne, però andare a fare una campagna terroristica sulla rabbia di steroidi che esiste, ma è un fenomeno molto raro, ma perché? Primo, perché i consumatori di steroidi sono rari nella popolazione, secondo, perché anche fra chi li usa questa cosa è rara e ci deve essere, lo ripeto, sotto un substrato mentale, diciamo, di struttura del cervello, proprio a livello di neurotrasmettitori, di produzione dei neurotrasmettitori che è già votata all'aggressività, allora è chiaro che lì può succedere, quindi io mi sento di dire che sicuramente di non usare mai in nessun modo il doping e anche insegnare a usarlo tutti quei discorsi, la corretta informazione, perché sono tutte balle gigantesche che alla fine vanno solo a incentivare l'uso, appunto, perché tanto si vede che è così, perché io quando vedo i commenti di persone che insegnano ad usare i farmaci o ne parlano diciamo a scopo educativo, vedo che i commenti sotto sono tutte domande del tipo che vogliono sapere come usarli, quindi altro che incentivare, questi vogliono sapere, è l'esatto opposto, ho sempre detto che altamente diseducativa questa cosa, non parliamo poi che se uno viene a parlare che lui stesso è assuntore, ragazzi, questo secondo me non dovrebbe neanche presentarsi qui a parlare, ma proprio non dovrebbe neanche presentarsi, comunque, diciamo, Pedro, che tanto che è una battaglia persa, abbiamo già visto che qui si vede, si sente di tutto qui veramente, e quindi ragazzi io confermo il fatto che dovete assolutamente evitare l'uso del doping, a prescindere dal discorso della rabbia ad asteroidi, eccetera, eccetera, ma io vi dico anche, e lo dico, evitate ogni abuso di sostanze che possono farvi del male, che sono l'alcol, che sono le droghe, sia leggere che pesanti, e cercate di fare una vita sana, ovviamente anche fumo di sigaretta, cioè io non sono contro anche quello, cercate di fare una vita sana, perché è questo che dovete fare, non solo per voi, ma per i vostri familiari, per il vostro futuro, per tutta la società, cioè questa cosa è importante, ogni ragazzo che è preda di un vizio è un danno per tutti, non esiste questa cosa, ma in fondo sono fatti suoi, che ce ne frega a noi, mi faccio i cavoli mie, ma non è così, perché alla vita di ognuno poi si riflette su tutti, non è che uno vive in un isola deserto su una montagna che qualsiasi cosa faccia ma alla fine finisce lì, siamo tutti coinvolti, quindi un ragazzo problematico diventerà un problema per tutti, poi parliamo quando succede un caso di tragedia che dopo lì ovviamente c'è stato un caso recente di un giovane che ha fatto ha fatto un omicidio adesso lì sicuramente il caso è abbastanza complesso ma sembra che c'era di mezzo anche l'uso di misteroidi che costruiscono in palestra un po' fanatico però questo non vuol di niente non è che nessuno perché se erano in palestra debba diventare un violento però ripeto l'uso di sostanze in certi soggetti potrebbe fare effetti devastanti e questo poi riguarderebbe un po' tutti ecco quindi ragazzi cosa devo dire io più che mandare messaggi positivi cosa devo fare qui io lotto veramente contro lotto contro contro il mondo perché il nostro mondo qui è veramente corrotto è marcio lo ripeto la nostra community è veramente fallita è tossica è diseducativa tra nei rarissimi casi questa è la situazione e io però sono qua a fare quello che posso come dico sempre questa è una frase del film Mad Max con Mel Gibson il primo ricordo questa scena che loro erano erano sulle scale Mel Gibson era abbastanza arrabbiato per tutta la situazione stava desiderando c'era il suo capo che tra l'altro era fortissimo questo perché era sempre a tosso nudo aveva un gravattino questo la sua divisa era quella era a tosso nudo con un gravattino pelato e allora mentre Max andava via il capo gli diceva gli ha detto Max il popolo ha bisogno di eroi Max lo guardò e gli dice ma va mandò a quel paese però vi piace quella frase il popolo ha bisogno di eroi io ho bisogno di eroi io ho bisogno di voi grazie a tutti al top